Senti, oggi, no, per colpa tua, oggi mi uccidono. A me mi uccidono per colpa tua, cioè, adesso. Siamo qui tutti riuniti per celebrare questo nostro incontro. Mi uccidono a sviluppo con un minuto di silenzio per ricordare la lista. Eccolo, 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 non mi uccidono. Non urlare, Simone, dai, questo è il backstage, che ne sai? Is that the pinnacle? Is this the pinnacle? The pinnacle of being alive? I really wasted backstage. Sì, 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 sì. Guarda che vestito va Vediamo in tutta la sua imponenza il vestito Anche il regista se ne quadra La dama e la pettina Oh duca Guarda che bello Ma guarda un po' Ottimo Sto raccomperata Poi questo è tu Coppia finale Vanno al ballo Guarda che trova I'm a miracle I slap the water and watch The fish dance to the ripples of us We're just dealt with darts Blaking eyes and encased in rust This ain't a miracle This ain't a miracle This ain't a miracle This ain't a miracle Sono illuminata anche io Si E Adi è la mia Ma però potremmo mettere due stile Non ti dà ragazzi Mamma mia per fare una scena Vedi quante Vedete il tante Le ultime volontà di Jacopo Su una busta Vabbè pronti Ok Applauso Ho fatto bene Se vede ancora mai cura Bravo 1 2 3 4 5 E 7 8 9 10 1 2 2 1 3 Che mui 2 3 2 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 9 10 8 10 11 11 11 12 13 15 12 12 13 15 15 le master qui è meglio è meglio no, è meglio no, è meglio è meglio ti fa più confuso ragazzi tanto lei andate dai forza tu stai stai facendo stai facendo il video, stai facendo le foto a proprio i te 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 io ho capito che devo fare il nuovo però non ti faccio dario va bene mettiti una cinta qualcuno c'era una cinta in mano noi siamo che tiene il biglietto nella casa le due frasi che ti volevo dire c'è il messaggio in latino attenzione silenzio sette, motore partito azione no maria aspetta la stessa parola alleluia a 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